mercoledì 16 giugno nuovo appuntamento con l'informazione di qui licata tg vediamo le notizie di oggi benvenuti all'incirca dopo 100 anni dall'ultima volta il giro di sicilia in bici torna a licata ad organizzarlo e rcs dunque la stessa organizzazione del loro glorioso giro d'italia e il primo traguardo del corsa a tappe sarà proprio a licata nella nostra città infatti il 28 settembre prossimo sarà assegnata la prima maglia giallo rossa al termine della tappa avola licata di quasi 200 chilometri ieri gli organizzatori sono stati in città accompagnati da calogero pisano vicario capo di gabinetto vicario dell'assessore regionale al turismo e si sono confrontati con l'amministrazione comunale per definire i dettagli della tappa ci sono due cose positive la la prima è sicuramente la promozione della nostra città grazie al giro di sicilia in bici e poi il fatto che le strade in cui passeranno i ciclisti verranno asfaltate dalla regione e vi pare poco vediamo il servizio scopri tutta la bontà dell'autentica pasticceria siciliana da artigian creme una dolce coccola da regalare e regalarsi artigian creme passione e gusto dal 1986 intanto nella programmazione che l'assessorato sport turismo e spettacolo ha voluto inserire licata tra le tappe dei giochi sicilia di arrivo e naturalmente licata era stata già messa come tappa l'anno scorso però purtroppo per causa covid purtroppo è stato interrotto tutto vogliamo ripartire da licata naturalmente per dare un segnale forte a questa provincia e soprattutto insegnare a questa meravigliosa città d'arte il percorso è un percorso prevalentemente pianeggiante quindi si è presumibile pensare un arrivo in volata allo sprint e quindi sarà un diciamo anche un bello spettacolo una bella festa per tutta la cittadinanza siamo in una fase in cui stiamo predisponendo gli inviti ai team per il tipo di corsa almeno la metà può essere formata dai team pro tour e poi ci saranno degli inviti per squadre professional e continental il numero di team previsto è intorno a tra i 22 e i 24 adesso stiamo appunto ragionando su questi temi e quindi vuol dire che il gruppo sarà di circa 150 corridori è una tappa molto importante tra l'altro era stata preventivata e programmata già l'anno scorso e noi siamo molto contenti che questo possa rappresentare veramente un veicolo di promozione del territorio tanto più che viene visto in tantissimi paesi del mondo anche in tv e quindi ringraziamo il gruppo che si sta interessato proprio a a far sì che possa essere finalmente realizzabile e la regione apriamo la pagina dedicata al covid 19 allicata secondo quanto comunicato dall'asp di egrigento nel bollettino quotidiano il numero dei positivi continua a scendere oggi sono 102 le persone ancora in isolamento obbligatorio ieri sera la polizia municipale aveva reso noto che c'erano state ben 13 nuove guarigioni e soltanto 7 nuovi casi di contagio sono buone notizie indubbiamente ma bisogna continuare a tenere alta la guardia cambiamo argomento oggi è la giornata mondiale delle tartarughe ma allicata c'è poco da festeggiare stamani infatti sulla spiaggia della playa è stata trovata una caretta di circa 40 anni morta secondo gino galia responsabile del vf sicilia area mediterranea la testugine potrebbe essere morta per asfissia dopo essere rimasta impigliata nel reti da pesca vediamo il servizio per migliorare i tuoi spazi interni ed esterni vieni da antona dove trovi tutto per il fai da te la casa e il giardino passa a trovarci o scegli di acquistare comodamente su antona.it ma una delle più probabili ipotesi è quella che è morta per asfissia la tartaruga sicuramente è andata ad ingappare in qualche rete a trascico i pescatori quando se ne accorgono anziché magari di portare niente di esterni che magari era ancora viva ma purtroppo l'abitudine dei pescatori è che la prendono e buttano a mare e questo è il risultato che ci ritroviamo poi proprio oggi che è la giornata mondiale delle tartarughe oltretutto e quindi di ritrovare una grossa tartaruga di questa che magari non si sa se ha nidificato o doveva nidificare perché siamo in pieno periodo di nidificazione è veramente un peccato. Stamani sono stati qui la guardia costiera i veterinari dell'ASP qual è la prassi adesso che succede? La prassi in pratica viene il veterinario comunale e la guardia costiera la guardia costiera telefona a Palema all'istituto del zoo profilattico se vuole per esaminarla e magari vedere la causa del decesso per e propria attraverso l'autopsia o altrimenti attraverso i veterinari del comune di Licata viene smaltita e sicuramente ingenerita. La presenza di una tartaruga nelle acque di Licata testimonia la possibilità che ci possano essere dei nuovi nidi come è accaduto negli anni scorsi? Certamente, noi tutte le mattine facciamo monitoraggio delle spiagge con la speranza che qualche tartaruga come questa pobrina che è morta possa uscire a nidificare nelle nostre bellissime spiagge. Una buona notizia, nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata torna il parto col sorriso. Lo ha annunciato il sindaco Pino Galanti a margine dell'incontro di ieri nel presidio con il commissario straordinario dell'aspidi agrigento Mario Zappia. È stato confermato proprio nel corso dell'incontro che è stato esteso ai primari di ostetricia, ginecologia e ortopedia che da lunedì arriveranno nuovi medici per sopperire alle gravi carenze di organico dell'ospedale Licatese. Vediamo il servizio. Il commissario è stato molto disponibile, comprensivo e ha messo a disposizione tutto quello che nelle sue capacità di commissario dell'aspi e farà venire qua dei medici per innanzitutto per allentare il peso che hanno i medici che sono in servizio perché in effetti sia in ortopedia che in ostetricia sono pochissimi, sono non al di sotto ma potremmo anche esagerare dicendo che sono a zero. Per quanto riguarda l'ostetricia e ginecologia il dottore Zappia ha dato ampia disponibilità all'ostetricia di riprendere il percorso per le nascite con il sorriso ed è una cosa molto importante perché il protocollo è stato approvato e perché è giusto che un medico che ha preso un'iniziativa che porta un incremento dell'attività dentro l'ospedale sia nello stesso tempo agevolato con la presenza di altri medici che possono sostenere un risultato al quale mira non solo l'ospedale, non solo la città di Licata ma lo stesso direttore generale perché sarebbe controproducente non mettere l'ostetricia e ginecologia in condizioni di avere più di 500 parti. Il comune di Licata è pronto a liquidare il dovuto agli operai che hanno lavorato nei cantieri di lavoro che si sono conclusi negli scorsi mesi, lavori necessari per la sistemazione di alcune strade della periferia cittadina. La determina di liquidazione dei compensi è stata firmata dal Dipartimento Lavori Pubblici del Comune, ora si attende il via libera definitivo da parte dal Dipartimento Finanza e con la firma dei mandati di pagamento. 14 anni fa ci lasciava Franco Galia, pioniere dell'ambientalismo siciliano, responsabile a cittadino del WWF e fondatore dell'oasi naturalistica di Torre Salsa. Ieri pomeriggio nel corso di una breve cerimonia è stata benedetta la targa della Villa Messico che ricorda Franco Galia. Il sindaco Pino Galanti ha annunciato che è stata accolta la proposta del WWF di intitolare la Villa, che in questo momento si chiama Villa Messico, proprio a Franco Galia. Vediamo le interviste. Sì, sono passato 14 anni e ancora oggi purtroppo sembra ieri che si è andato e quindi è giusto che lo ricordiamo, lo ricordiamo con la benedizione della targhetta che abbiamo messo nel 2017 alla presenza del Presidente della nostra O.A., del Sindaco, del Vice Sindaco e di tutti i soci del WWF. vediamo un po' di ricordare tutto quello che ha fatto in questi 23 anni della sua vita di un WWF, perché più ha lavorato per il WWF che per la sua vita in pratica. Quindi è giusto, stiamo aspettando questa benedetta inditolazione di questa villetta che l'abbiamo resa bellissima. Sì, con Franco Galia avevo un rapporto particolarmente affettuoso, perché Franco Galia oltre ad essere ambientalista del WWF, e l'avevo conosciuto quando a Palermo faceva il servizio civile presso la sede palermitaria del WWF, era anche allora studente di architettura e io, architetto e poi consigliere dell'ordine, in qualche modo inserito nella struttura degli architetti, avevo con lui iniziato un rapporto che vedeva insieme queste due passioni di Franco riunite nelle mie altrettante passioni. Per cui avevamo un rapporto particolarmente caro ed affettuoso. E quando è venuto a mancare Franco, è venuto a mancare una montagna di idee, di rivoluzioni, di soluzioni che lui dava alle cose che gli si presentavano davanti, da architetto, da ambientalista, da persona seria, quale è sempre stata. Sindaco Galanti, oggi si ricorda un grande personaggio che di Cata non ha mai dimenticato, da parte del WWF arriva una richiesta già formulata al Comune, quella di ricordare meglio Franco Galia intitolandogli questa piazza. Sicuramente è un obbligo dell'amministrazione procedere velocemente al riconoscimento di un personaggio così importante, cosa che io ho già fatto non appena mi sono insediato perché il tratto della via che va dallo stadio di Noliott fino ad arrivare all'orotonda che c'è vicino alla caserma dei Carabinieri è stato a suo tempo intitolato su interessamento di questa amministrazione a Franco Galia con molto piacere, con molto senso di obbligo nei riguardi di una persona che si è spesa solo ed esclusivamente nell'interesse sociale, nell'interesse del benessere del mondo. E siamo giunti alla pagina dello sport, il calcio. Purtroppo a Licata c'è la brutta abitudine di criticare sempre, anche quando si fa bene. Parole al veleno, quelle pronunciate da Giovanni Campanella al termine del big match di domenica scorsa tra Licata calcio e ACR Messina. Immaginiamo che il tecnico gialloblu si riferisca alle critiche che soprattutto dai tifosi sono piovute sul Licata calcio a causa dei risultati altalenanti. Campanella giudica comunque positiva la stagione gialloblu che volge ormai al termine. Vediamo l'intervista. La stagione, a prescindere dal disastro del Covid, è stata buona perché ci siamo salvati. Adesso abbiamo 40 punti, ancora ci sono due partite da giocare. Diciamo che è stata positiva, non tanto per quello che si era detto all'inizio, perché si era detto di migliorare la classifica dell'anno scorso, però ogni campionato ha una storia a sé, è inutile che stiamo qua a piangere. Mi dispiace perché sinceramente parlando a questi ragazzi bisogna fare una statua d'oro per quello che hanno fatto quest'anno. Purtroppo qua ha allicato l'impressione che io li chiamo quinta colonna, c'è gente che è solo abituata a criticare, malgrado che la squadra gioca bene e sempre criticata. Però questo è il destino del calcio, non c'è niente da fare. Ecco l'intervista di Giovanni Campanella, chiudiamo questa edizione del giornale. Grazie per essere stati con noi, ci rivediamo venerdì. A presto.